Che dirò a mio padre dell'auto? Ah, l'ancoraggio, si tratta di interni. Io conosco uno bravissimo con gli interni. Oh, Cristo! Oh, mio Dio! Ragazzi? Ma che cazzo? Ok? Quello, io lo conosco. È il tipo del bagagliaio. Scendere dall'auto. Prego. Un momento, non scendete. È il tipo col piede di palco. Ma vale? Forza, tu sei il prossimo. Andiamo. Ok, d'accordo. Forza, forza, forza. Ok. Do che salam, do che salam, do che salam, il palzone, il palzone. Calma, calma. Forza, forza. Io rivolgo il mio borsello. Cazzoni. Che è il borsello? Non è un borsello, è un saggio. È un borsello, ok? E voi preso a persona sbagliata. Un momento, un momento. L'abbiamo preso a te. Sapete una cosa? Noi non ricordiamo assolutamente niente della notte passata, quindi aiutateci un pochino. A quanto pare vi siete conosciuti giocando a dadi. A te stava andando alla grande e lui ti ha seguito e ha vinto quasi 80.000 verdoni. Davvero? 80.000? E quindi è andata bene. Ha messo le fish nel borsello e voi ve lo siete preso. Non è nel nostro stile. Mio aveva dentro 80.000 dollari. Questo qua. Mia! Ehi, ci sono le mentine dentro! Ah! Addio, sto farendo! È solo un bambino, anche se ha la barba. È buffo perché è panzone. Si è chiaramente trattato di un banalissimo malinteso. Alan ha preso il borsello sbagliato, non è un dramma. Ok, se non è un dramma, perché quando io vi corro dietro, lui fa strilli come pazzo e chiude me in bagagliaio? No, ho fatto questo. Sì, hai detto che era il tuo gnomo portafortuna e l'hai chiuso nel bagagliaio. Portafortuna? È un vero spazio! Fanculla! Se volete rivedere il vostro amico, portatemi i miei 80.000 dollari. Un momento, il nostro amico... Hai preso Doug? Voi sapete dov'è? Cosa? Doug! Doug! È lì, in macchina! È lì, in macchina! Doug, va tutto bene? Ten calmo, pizzetto! Ok, ok, d'accordo, va bene. Che cosa volete? Ah, ora non fai il buono, qui, però qua. Merdina. Che? Oh, aspetta, sentite, scusate tanto, ma rimediamo subito. Alan, dov'è il varsello? Non lo so! Come? È in albergo, per forza! Sì, lo andiamo a prendere! Lo andiamo a prendere, sì! Anzi, ti possiamo fare un assegno all'istante. Niente assegni! Con tanti? C'è una persona lì dentro! Oh, poi a pisolino, andiamo. Fermo! Aspetta un attimo! Scusa tanto se t'alluiamo, eh! Tu hai ingratito il nostro amico! Ma tutto bene! Rapitore! Il nostro amico, quel ragazzo! No, 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 non te ne vai! Ma te, son... Stop! Investimi! Ehi, tu! Ma che sei ceppo? Tu, tu! Portate i soldi a Big Rock, deserto di Mojave, all'Alva. Alva? Dico a Dio, figlio di Srona! All'Alva dove? A me, voglio il sacchetto dalla testa! Ma... A me, voglio il sacchetto dalla testa! A me, voglio il sacchetto dalla testa! A me, voglio il sacchetto dalla testa!